ecco qua buonasera stasera abbiamo tagliolini salsiccia e crema di pizzacchio allora mettiamo un po d'olio evo vi faccio vedere il nostro pizzacchio praticamente è fatto con il 70 per cento sono pizzacchi di bronte poi olio extra vergine di olive di oliva e un po di sale allora sgraniamo la nostra salsiccia di un'ottima norcineria locale che profumo un'ottima 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 andiamo la giudiamo con un cucchiaio di vino e vediamo anche questi appassi e profumiamo ecco qui utilizziamo il nostro testo che colori spettacolari facciamo sciogliere il pesto che crema agitiamo anche con un goccino di latte guardate che colori che profumo se vi sforzate anche il profumo che spettacolo lasciamo riposare mettiamo sull'acqua per i nostri tagliolini ecco qui c'è stato un errore la nostra pasta all'uovo di fiducia invece di portare i tagliolini ci ha portato le pappardelle ma noi non ci spaventa nulla buttiamo giù le nostre pappardelle mescolando bene e aspettiamo due minuti intanto accendiamo il nostro intingo le nostre pappardelle con la crema di pissacchi verdi di bronte e salsiccia spettacolo vero intanto abbiamo grattato anche del parmigiano reggiano guardate che colori che spettacolo stasera ci siamo organizzati mettiamo anche un po' di pepe dovremmo quasi essere andiamo altri 40 secondi 30 che spettacolo eccole ecco qui scogliamo le nostre pappardelle le aggiungiamo le aggiungiamo le aggiungiamo l'acqua di cottura ecco qui manteghiamo la pappardelle mettiamo su per un altro minutino che profumo che cremina ecco qua spingiamo aggiungiamo del parmigiano che spettacolo buona giornata